La nostra materia, ciò di cui ci occupiamo, vive di futuro, vive di una tecnologia, vive di una crescita esponenziale e riguarda proprio per esempio l'ausilio dell'intelligenza artificiale. In particolare stiamo lavorando per la realizzazione di qualcosa che entra nel metaverso. Stiamo lavorando esattamente nella realizzazione di alcune metodiche che sono proprio da metaverso, cioè la possibilità di fare formazione per imparare come fare un prelievo vocitario, per imparare a stare in laboratorio e a muoversi senza avere un paziente davanti.